a volte mi chiedono ma perché va in moto d'estate è caldo sotto tutta quella roba si suda da morire d'inverno invece è freddo freddissimo è scomodo per viaggiare non si può portare bagaglio e se piove prendi tanta di quella acqua a volte me lo sono chiesto anch'io ma poi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti